Sicurezza e tecnologia arrivano le telecamere di videosorveglianza, saranno complessivamente 59 gli occhi elettronici che vigileranno sulla città 24 ore su 24. Oltre alle 8 videocamere già installate nei principali varchi del centro storico per monitorare l'ingresso delle auto nelle zone a traffico limitato a partire dalle 22, altre 47 telecamere tutte ad alta definizione saranno sistemate in diversi punti strategici di Lecce, principalmente nel Borgo Antico e nelle zone meno illuminate. A completare l'opera quattro fotocamere munite di radar, queste saranno collocate in prossimità delle cosiddette vie del sesso per controllare l'ingresso nella zona già da tempo off limits e non residenti nelle ore notturne. Il progetto realizzato con le tecnologie più sofisticate è stato presentato ufficialmente a Palazzo Carafa. Lecce è la prima delle città del meridione a godere di questa iniziativa? Sì, oggi è la prima città che vede cantierizzato un progetto rientrante nel Porn Sicurezza 2007-2013. Ho ringraziato personalmente sia le forze dell'ordine e il doveroso farlo perché hanno dato un contributo notevolissimo al progetto ma anche al Ministero degli Interni e al Sottosegretario Mantovano che ci ha messo a disposizione gli uffici anche per un lavoro di consulenza. Entro i primi di luglio assicurano l'assessore Ripa e il consigliere con delega alla sicurezza Luigi Coclite l'apparato di videosorveglianza sarà operativo a tutti gli effetti. Un tassello importante questo nella costruzione della prevenzione e della sicurezza così il questore di Lecce Antonino Cufalo. Un'opera che noi salutiamo con vivo compiacimento perché non v'è dubbio che sia di grande utilità e dal nostro punto di vista è sotto il profilo della prevenzione ma anche nell'azione di contrasto a qualsiasi forma di criminalità.